Sono Salvo Giuffrida, l'agronomo dell'azienda Piano dei Daini, è un'azienda che si trova nel versante nord dell'Etna, precisamente a Solicchiata. È un'azienda nuova acquistata dalla famiglia Bosco nel 2010, da loro rivisitata e reinterpretata, reimpiantando nuovi impianti e prendendosi cura di vecchi impianti alberello incontrati a Passo Pisciaro. La nostra produzione a regime sarà di circa 60.000 bottiglie, tutte di Etna Doc nelle varie varianti previste al disciplinare, rosso con diversi anni di affinamento, rosato, in futuro anche bianco e molto probabilmente anche uno spumante metodo classico. Noi quindi facciamo anche un lavoro di manutenzione e di gestione dei vecchi muri a secco presenti praticamente in tutte le aziende dell'Etna. Dopodiché coltiviamo in biologico, quindi senza l'utilizzo di fitofarmaci se non quelli previsti dal disciplinare, anche per ottenere un vino buono e di qualità ovviamente organolettica ma anche salubre per il consumatore. Grazie. 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 Grazie.